Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con PeppeGames e siamo qui su Rainbow Six Siege E ragazzi siamo qui in una partita con Handboss 1000 Handboss 1000 Anzitutto PeppeGi ha sbagliato il suo nome PeppeGi ha sbagliato il suo nome PeppeGi ha sbagliato il suo nome PeppeGi Io mi chiamo XDiPerGames Ah XDiPerGames è da tutti conosciuto come HandbossSmile Ma anche XDiPerGames passate per il suo canale Comunque ragazzi Allora mi raccomando passate per il mio secondo canale Peppe e Mario Show Dove abbiamo caricato il nostro primo video su FIFA 17 E la tempo naturalmente Perché il video è stato fatto molto tempo fa E subito arriveranno molti video di scherzi oppure esperienze estreme Video paranormali Eccetera Comunque Aspettiamo che è carica Non so perché a me non carica Amo Crash Tipo Tipo se Crash La mia bellissima tv Si fa un buco al centro per esperienze paranormali Cioè per atti paranormali Poi Allora Comunque Mi è andato a giovedere a quando abbiamo fatto Che in pratica Lui ha chiamato il numero 166666666 Si e però mi è successo un cazzo Una cagata del cazzo Veramente Io pensavo di morire Però infine non è successo niente Sono No scherzo Non sono morto Comunque No in realtà no Stavo già volendo con me a FIFA Nel conti nostri E lui io e i due frasi si metteva a vedere il telefono Per un certo punto Il telefono per azioni misteriose Per fatti misteriosi Si accendeva da solo E si spegneva Vabbè sti cazzi Ok Ok andiamo Come vogliamo andare giù Andando perché c'è una femmina Lo sapevano tutti Guardate qua Sto personaggio Vabbè intanto sono più forti Vabbè intanto spacco da sopra Aspetta non correre Non ti sento la porca Così si entra Vai Sai com'è Il tuo mare Cazzo stanno morendo tutti sti coglioni Ok attenti eh Vai cadi Facciamo una cosa Se tu mori non vengo Se non mori Vabbè ormai sono caduto Oh Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Ok io scelterò la minaccia Ok io scelterò la minaccia Allora se inizioniamo ego vediamo cosa mettere Allora mettiamo ego o qualcos'altro Non lo so Mettiamo un operatore speciale Ah sì mettiamo ecco 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 come cazzo si chiama Comunque Tornando a me Eh Che non lo so Però questo operatore Questo operatore che ha di speciale Eh Adesso lo vedrai subito And most smile Lo vedrai subito Mi sembra che è una specie di pelone Aspetta guarda Guardami un attimo Vedi qua dove so io Guarda Questo drone se ti metti a terra potrà vedere che fluttua Adesso guarda in aria Uh Vabbè E guardami Guardami come divento quando sto in aria Mi bimitizzo Ui Fico E poi posso anche sparare Allora il suo drone conserva Posso sparare delle cose che in pratica assordiscono o berda Sì vabbè Mira 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 100% Che cazzo stanno andando No Facciamo che ci camperiamo da una parte E tu col drone guardi un po' la zona No no mi chiudere fuori Apri No Chiudiamoci qua Chiudiamoci qua Peppe Tu col drone Peppe tu col drone Giusto 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 Rimani la porta aperta Sennò capiscono che siamo denti Io controllo No Rimani la porta Ok vai Io ti proteggo Tentando guarda Vieni qua dietro Sì Aspetta Perché non me lo fa usare? No Me l'hanno rotto Come? Ma abbiamo trovato una tattica figa Tu l'hanno rotto Aspetta Aspetta Non uscire Non ti far vedere Entra dentro Non mi sentono Eh rimangono tutti qua Ti passo per il podo Oh spara anche a me Mi spari? A te No Dico questo qua Oh porga droia Dove cazzo stanno Oh L'hanno ucciso Io non ho ucciso uno Mi copri? Yes Dove cazzo stanno questi? Io sto esplorando con Caparito L'hai detto 40 volte Basta Non lo direi più Ultimo attaccante Rimasto in vita Eccolo Mori stronzo No Affanculo Ah l'avevo pure preso Merda E io Sta dove sono morto io Allora vai destra 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 Scendi 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 Allora adesso Vedi anche la trappola Alla tua destra Ecco In quella stanza lì sto In questa stanza dove ci sta la trappola Non usare questo Che lui è il mitra È il mitra Ok No no Non sparare così Ti tiri di buttare il kamikaze dentro E lo uccidi Affacciati Bravo Mira mira Devi mirare Eccolo Grande Usato la bomba Per fare un buco Grande Grande Ragazzi Facciamoci un'altra partita Naturalmente ci vediamo tutta la sessione di partite Forza Ok Attacchiamo adesso Questa volta attacchiamo Ok Allora Questa Allora Questa volta Mi metto Termite Mi metto Termite Anzi Anzi no Fuse Fuse Così Spaccare un po' i goli Con quelle bombette Che lanciano L'attacco Attacco Atacco Atacco Le muri Non ho capito Difficità No Bruttissimo Dai Scherzo Molto bella Molto bella Come le bombe C'è Eccoli Li ho trovati Già Cazzo Cazzo Sì No Sì L'ho trovato Già Abbiamo trovato Il bersaglio Eeeh Una cosa In casa Il bar Comunque Non senti Passi Guarda Li hanno sterminati I nostri droni Non senti Passi Guarda Dieta Perché ci stava Pure Caveta Tutti i droni Sono stati Distrutti Andiamo Allora Andiamo In coppia No Adesso Seguimi Che Qua Sono Tattica Bellissima Io ti copro le spalle Li dobbiamo sterminare Tu seguimi Ragazzi Ragazzi Guardate questa Tattica Copiatela Però 100 euro Eh Se la potete copiare Ma ragazzi Un'altra cosa Che ci Tenevo a dirvi Se volete Intro Cioè Gratis Gratuitamente Basta che mi contattate Sulla pagina facebook Oppure Nei commenti E Mi dite Il vostro colore Preferito E la intro Cioè Il vostro nome Del vostro canale Del vostro canale E vi farò Una bellissima intro Eccolo Eccolo Già l'ho trovato Spara 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 Scusa Sono fatto Opposta Sei andato in panico No eh Era andato in panico Ma tu spandi Una cazzo di gara Perché ci stava Cavaria Ci stava Cavaria Era andato in panico Te lo giuro Stavo scendendo io Dai Guarda Te lo giuro Il cazzo È tutto baricato Qua Qua c'è qualcuno Ho visto i passi Security No Era lombra Della cosa Non era Che quelli dovrebbero stare qui sotto No Si Spara Sotto Qua Spara E ma Due Nel stesso Tornate a occuparvi del contenitore Dettino Comunicato Scendi Dall'altro Messo in sicurezza Entra sotto Scendi dall'alto Da solo Quanto tre persone Passo solo io Oh cazzo Si Se qualcuno Non mi ammazzavo Attenzione Attenzione Che funziona Tant'uno Peppe che si affaccia Peppe che gli sparano No Allora Abbassati Totalmente Ma vai avanti Così Ah però Adesso In tre Cazzo Neutralizzate La minaccia Oh merda Dove cazzo era Aspetta Io ho visto Dei spari Che arrivavano a casa Un attimo Vedendo Come cazzo Mi ha preso Ho nascosto Ma no Mi ha preso l'arma Poi Vabbè Ora difendiamo Perché naturalmente Se ti sparano l'arma Uno muore No È logico Ragazzi È log È anche logico Lozzico Oh mettiti Quello là Che è il drone Quello là Quello là Chi è quello là Non lo so io Quello Che ti metti il drone E dici Ma 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 ti dici quello là Sì Oh Quello là proprio Sì Sì Due Uno Bezz Quello Pensavo Che aveva fatto La stessa cosa Lua Eh voleva Fare Secondo me Ci ha provato Però non c'è riuscito Eh no Eh lo piglia Super il Bimbo Aspetta Oh Stai fermo And Stai fermo Scendi Scendi Metti di fronte a me Non ti faccio niente Metti di fronte a me Ecco guardate ragazzi Quello è un esemplare Di Di No Niente Di 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 Ok Allora Noi ci mettiamo No Qua dentro No 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 Vieni 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 Segui Segui Dove Non Non Bel Posto Vieni Vieni Chiudiamo Qua Seconda Cosa Vieni qua Qua Dentro Ci Qua Dentro Vieni qua Dentro Cazzo Occi Sontorone Tu mi dici qua Dentro Qua Dentro Ci mettiamo Barrica Barrica Tutto qua Barrica Qua Tu Chiudi La porta Chiudo La porta Io Sono Esemplare Di Caveira Selvatica Comincio A Mettere Come I Rinpozzanti Di Qui Le Antica Rendendoci Sto Barriano Qui Dentro Ok Usa Il tuo Drone Ma Moment Priso Io Ancora Devo Attivare Finavamo Anche Qua No Là Ci Stanno I Amici Non Mi Interessa Ma Perché Stanno Sempre Si Buchi Qua In Mezzo Ma Non Lo So Dai Usa Ok Non C'è Nessuno Contro Di Qua Guarda Non Ditemi Che Posso No Ma Pensavo Allora Vediamo Giù Giù Io Non Vedo Assolutamente Niente Io Ho Fatto Un Buco Un Piccolo Buco Per Sparare Ehi Dove Stanno Sopra Sopra Ci sta Fuse Non sta Sopra Eccolo Ho trovato L'ho Identificato Allora Io Lo Stordisco E Tu Vieni Madonna Torniamo Tutto Sì Ma C'è Staccato La Porta Tu Non Hai Capito Aspetta Bravo Ecco E Lui Che Dove Uccidere Contro Ok A me Mi rimangono Ancora Un sacco Di colpi Dove Dove Non ci sono A caso Io punto il Contenitore Adesso Qui Ho fatto Un muoco Qui In mezzo Muori Ma ti ho sparato 3.000 Le colpi No Muori Merda Oh Peppa Giù Tu manco Mi aiuti Io sto Cercando Di Carpire Dove Come Sei Carpire Seguimi Cazzo Dai Vai Facciamo Che Siamo Da Due Forza Questa Questa Che Mi metto Sempre Sì È Bellissimo Ok Molto Utile Allora Adesso Io Ci barichiamo Da una parte Tipo Prima Metto Subito Una Il drone Fuori Lo alzo Lo faccio Mimetizzare E poi Da lì Appena Che c'è Qualcuno Proprio Di fronte Alla Tua Mira Qua Dove Cazzo Ci mettiamo Ci mettiamo Qua 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 Tu Siamo Io Dove Sei Ah giusto Ok Ah no Chiudo la porta qui Sì 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 Oppure Sai che dobbiamo fare Dobbiamo mettere Così Lo scudo Così In modo che Loro per entrare Devono per forza Rompere lo scudo No Lo posso scavalcare Eh però Mentre non scavalcano Noi li spariamo E muoiono Ho spasato Ho spasciato Il compito Devo fare in questo modo No Ci sparano Mettino un po' Più avanti Così Metti Due roba Di casa Ah Buono Bene 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 Tu dove ti metti Io mi metto Di dal compito Aspetta Fammi vedere un po' No Guarda che un po' sottovado Io Aspetta che copro un attimo Sì ma io sono nascosto Sotta la scrivania Non so se hai capito Sì ho capito Qua adesso ci vuole solamente Che viene Fuse E ci frizza Tutti Allora io sto vedendo le telecamere Hanno già aperto Eccoli Oh merda non posso passare Coprimi No io sto cercando di L'hanno ucciso L'hanno ucciso Cioè L'hanno ucciso No vedete come ma cazzo L'ho ucciso Guarda la che cuno Con un mini buco Che ha visto Ho sparato alla cazzo La peggio Stanno conquistando La peggio Esci La peggio E' l'aria Conquista La peggio Alla mio pezzo Vai però Ne ho ucciso Un po' Ma dove cazzo Stavo Quell'altro Ti dico Esci Ho detto Esci Che stanno Conquistando Tu lo fai Perfettamente Ma però Li ho uccisi Quasi tutti Vabbè sti cazzi Comunque ragazzi Per questo Video E' Tutto Vi raccomando Lasciate tantissimi Like, commentate Condividetelo Ci vediamo Alla prossima Bella ragazzi Alla prossima Ehi Ehi Alyssa Ehi 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 Grazie.